Ciao a tutti, bentornati all'apertura della ventiquattresima ed ultima casellina del calendario giuridico dell'avvento in materia di appalto e contratti pubblici. Oggi parleremo della sottoscrizione dell'offerta economica tecnica della domanda, nonché dell'eventuale mancanza della sottoscrizione. Premettiamo che nelle gare pubbliche, secondo il prevalente orientamento del Consiglio di Stato, ribadito anche di recente con la sentenza 10.721 del 12 dicembre 2023, la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, quindi anche in caso di raggruppamento temporale di imprese, sia da parte del mandatario che delle mandanti, soprattutto quando il raggruppamento non è ancora formalmente costituito e il raggruppamento stesso presenta in gara l'impegno alla futura costituzione del raggruppamento mediante l'atto notarile. Quindi la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti che con essa appunto si impegnano nei confronti della stazione appaltante risponde sicuramente ad esigenze di ordine generale relative sia alla certezza sulla riconducibilità dell'offerta agli stessi operatori, nonché alla coercibilità poi degli impegni che questi assumono nella successiva fase esecutiva. Questo orientamento si conferma anche nelle carie telematiche, atteso che nelle carie pubbliche la sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta proprio nel documento. Questo serve a rendere nota la paternità dell'atto e quindi dell'offerta e quindi la riconducibilità dell'offerta a quel determinato soggetto, nonché avvincolare l'operatore alla manifestazione di volontà che in esso viene contenuta proprio nell'offerta. La sottoscrizione assolve quindi la funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità dell'offerta e costituisce un elemento essenziale per l'ammissibilità dell'offerta stessa, sia sotto il profilo formale che sostanziale, potendo in questo modo far derivare solo proprio dalla sottoscrizione gli effetti dell'offerta stessa come dichiarazione di volontà finalizzata alla Costituzione del rapporto giuridico. Volontà che sappiamo essere, a esenza dell'articolo 1321 del Codice Civile, uno degli elementi essenziali del contratto. La mancanza della sottoscrizione inficia pertanto sia la validità che la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta. La eventuale mancata sottoscrizione sia della domanda che dell'offerta, perché se non impatta quantomeno sul contenuto o sulla segretezza, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione però che, e qui ci aiuta ANAC con la delibera 48 del 2 febbraio 2022, per cui la mancata sottoscrizione sia della domanda che dell'offerta, purché però questa mancata sottoscrizione non vada ad impattare proprio sul contenuto o sulla segretezza, ad esempio un foglio in bianco, oppure un documento che è stato violato da un punto di vista della segretezza, quindi qualora la mancata sottoscrizione della domanda e dell'offerta che non impatta sul contenuto o sulla segretezza, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che, afferma ANAC con la delibera citata, si accerti la riconducibilità dell'offerta al concorrente in modo da escludere l'incertezza assoluta sulla provenienza, perché se vi fosse incertezza assoluta sulla provenienza non sarebbe nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio. Anche per oggi abbiamo concluso, questa volta però non vi aspetto all'apertura della prossima casellina, ma intendo invece salutarvi, ringraziarvi, perché siete stati in tantissimi, vorrei ritornare tra l'altro in video, eccomi, vi volevo ringraziare perché siete stati moltissimi a seguire la rubrica che abbiamo attuato per il secondo anno constitutivo del calendario giuridico dell'avvento in materia di appalto e contratti pubblici e colgo l'occasione, visto che oggi è 24 dicembre, per accurare a voi, alle vostre famiglie e tutti i vostri cari i miglior auguri di buon Natale, buone feste e non so se ci rivedremo per intanto anche buon anno, da me e dal mio solito amico Babbo Natale, ciao a tutti!